E' una grande ingiustizia sinceramente, in generale, ma mai come in questo momento storico in cui dopo la giornata, la serata di ieri siamo tutti carichi e motivati, più che una speranza di potercela ancora giocare per lo scudetto, sottrarre ai tifosi napoletani di Napoli. Questa emozione è veramente una cosa ingiusta, grave e che mi auguro possa essere rivista anche all'ultimo momento. Sarebbe veramente un bel segnale di sport, è una grande sfida tra una squadra che ultimamente ha vinto tutto e sta vincendo tutto come la Juventus e una squadra che sta giocando un grande calcio, che non molla mai, che ha sete di vittoria e soprattutto dopo le partite in casa con il Chievo e con l'Udinese abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo la squadra che alla fine più ci crede fino alla fine, non molla mai e siccome abbiamo un grande sogno nel nostro cuore di napoletani e innanzitutto dei napoletani che vivono la nostra città, sarebbe bello poter vedere anche noi e i nostri tifosi allo stadio di Torino. Domenica. Grazie. E vince. Grazie. 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 Grazie.